Grazie e benvenuti in questo nuovo video Milan che parte malissimo perde contro Lubinese 1-0 gol di Becao Becao meravigliao sinceramente mio padre è arrabbiato e inizia a rimpiangere Patrick Cutrone quindi per me per me e per mio padre Cutrone doveva rimanere quindi io penso che Cutrone poteva fare qualcosa al Milan però penso che fa schifo tutto l'arbitro Pasqua non assegna un rigore al Milan su tocco di mano di Samir Netto eppure va a vedere la VAR ma io penso che quest'anno la VAR si è drogata perché non è possibile che dopo una giornata ti trovi pieno di polemiche e la VAR è la responsabile di tutte queste polemiche e quindi io penso che il Milan ha meritato la sconfitta perché l'Ugnese ha giocato benissimo Milan proprio male 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 Piontek spento cioè proprio non si fa proprio vedere nella partita e niente raga iscriviti al canale e attivate la campanella ciao